ben ritrovati di nuovo su review you oggi vado a recensire velocemente queste palline di natale queste bocce per andare ad abbellire il vostro albero di natale acquistate su amazon a circa 10 euro link in descrizione devo dire che sulla pagina del venditore sono presenti sia di color oro come vedete di color argento se scegliete color oro o scegliete color argento sono presenti in tre di tre tipi diciamo allora la parte opaca la parte specchiata lucida questo sono io e la parte glitterata che è questa qua allora potete scegliere il pacco da 24 oro da 60 mm di diametro oppure il pacco oro da 40 mm di diametro come anche scegliere il pacco da 24 di color argento da 60 mm il pacco colore argento da 40 mm ogni pacco come come dicevo presenta sempre le tre tipologie quindi opaco gritterato e specchiato queste qua sono ovviamente da 40 mm eccole qua mentre queste qua sono da 60 mm io vi dirò la verità per abbellire tranne questa qua che non c'entra con la confezione per abbellire questo albero da due metri e quaranta che piuttosto imponente ho acquistato due pacchi da 24 l'uno ovviamente di colore sia oro che argento e poi due pacchi da 40 mm spero di aver detto giusto comunque due pacchi da 60 e due pacchi da 40 mm così come tutto abbellire tutto l'albero anche dietro perché dietro non lo possiamo lasciare vuoto e quindi arrivano all'interno di questa confezione di plastica dove ovviamente potete riporle alla fine del natale e io l'ho tenuto da parte poi in gancetino l'accetto e colore comunque argentato oppure oro che dovrete inserire passare all'interno non sono compromesse nessuna di essere rotta ammaccata quindi sono rimasto veramente soddisfatto e devo dire che fanno veramente un bel effetto per capire questa cosa da 60 mm a questa grandezza mettendo la mia mano e questa qua è veramente piccolina da 40 però ci sta se avete qualche domanda non esitate a pormela rispondo sempre a tutti vi lascio il link in descrizione del prodotto così potete un attimo darci un'occhiata e scegliere e mi raccomando comprate sempre un po prima del natale per risparmiare qualche euro sul prodotto perché si sa quando si è sotto natale poi i prezzi salgono un po su tutto